Parla di sfide estreme che l'uomo vuole affrontare, cosa lo spinge? Ma intanto bisogna dire che è una novità accettare le sfide nei confronti della natura perché per millenni questi luoghi come le distese di ghiaccio, i deserti, l'alta montagna, le selve gli oceani, i vulcani erano evitati o si andava là soltanto per motivi militari o commerciali e quindi è dal 700 in poi che l'uomo si pone il problema di sfidare la natura e questo ha delle origini lontane nella rivoluzione astronomica di Copernico e soprattutto di Giordano Bruno cioè quando l'uomo si accorge di non essere più al centro dell'universo ma in un pianeta che naviga senza appoggiare su nulla nei margini del cosmo allora c'è un senso di delusione, di perdita e quindi l'affrontare le sfide alla natura, esplorare posti sconosciuti, andare in questi luoghi che hanno un significato di morte perché l'uomo è solo, senza aiuto eccetera, quindi di superare le prove. È un modo per crescere, per consolidare la propria identità. A livello più quotidiano sembra che oggi ci sia sempre di più una voglia di arrivare al limite sia in modo sano, quindi con gli sport così detti estremi, oppure in modo meno sano con droghe e alcol. Sì, due fenomeni forse sono diversi. Certamente c'è l'idea che non si accetta la banalità e la normalità della vita quotidiana e quindi si cerca di superare i limiti da un lato nel modo migliore per rafforzare se stessi e per riaffermare la propria volontà e il proprio modo di essere. Dall'altro invece per dissolversi, per perdere se stessi. C'è anche una volutà nel perdersi. C'è un piacere in non avere responsabilità di dire, come è una famosa reclama, fermate il mondo, voglio scendere. Lei pensa che appunto questa passione per gli sport estremi così faccia parte di questa voglia di sfiorare il limite e non sia soltanto il narcisismo per quanto riguarda gli sport più bani, penso al bungee jumping, al parapendio anche fatto da persone meno esperte. Il parapendio, se ben praticato, è qualcosa che può essere controllato razionalmente, che ha la sua bellezza. Invece quello di buttarsi da un ponte con l'elastico mi sembra che faccia parte di follie quotidiane. Può darsi che ci sia anche un fremmito di gioia che io non riesco a capire. Un drogarsi di adrenalina forse. Un drogarsi di adrenalina, però voglio dire, tutto sommato in un mondo come il nostro, fatto di fretta, di molteplicità e dispersività di stimoli, l'ideale della buona vita sarebbe quello probabilmente il silenzio, di stare raccolti, tranquilli. Invece queste manifestazioni sono segni di una irriquietezza che probabilmente è data da scontentezza di se stessi più che da narcisismo. La vera sfida estrema di oggi, quindi, è stare in pace con se stessi. Sì, in pace con se stessi e nel caso dei viaggi, delle esplorazioni, questo vale anche per chi fa le scalate in montagna, per chi attraversa i deserti, purché lo faccia, come dire, anche per ritrovare parte di se stessa, non per entrare nel chines dei primati o per mostrare agli altri che si è capaci di fare delle cose. Insomma, grande distinzione la fece Balls in quel libro e film che da noi, Shelter in Sky, che da noi è tradotto il tè nel deserto. C'è la distinzione tra il turista e il viaggiatore. Il viaggiatore è quello che va accompagnato dall'uomo, dalla donna con l'ombrilino rosso, tutti in fila, senza sorprese. Il viaggiatore è quello che affronta dei rischi calcolati, ma in sostanza come un tipo di esperienza propria, una forma di autorealizzazione. Ecco, noi siamo in un mondo in cui il turismo non c'è niente di male, perché se non si offre agli uomini qualcosa di meglio è chiaro che andranno in viaggi organizzati e vedranno quello che si aspettavano già dall'inizio di vedere, dai dépliant turistici, eccetera. Però è certamente un godimento di basso livello, mentre invece uno che ha cultura, capacità e anche disponibilità economica e che può fare il viaggiatore, dirigersi da solo in certi luoghi, farlo in solitudine o con pochi amici è un'esperienza certamente più appagante.